Parliamo di un tema che è diventato un vero e proprio cavallo di battaglia per l'amministrazione, in particolare per l'assessore alle politiche giovanili Gabriella Bersone, i disturbi dell'alimentazione. Un appuntamento importante nelle prossime ore, ci racconti tutto. Sono due anni che lavoro su questa tematica molto importante che va sempre e purtroppo in crescita. Questa volta abbiamo voluto costruire una rete solida tra l'azienda sanitaria locale di Biella, il provveditorato con tutte le scuole, l'amministrazione comunale e l'associazione Minutro di Vita. Quindi abbiamo collezionato una giornata veramente piena di ospiti e che parte da quello che è il discorso sanitario a quello che offre il territorio. Quindi abbiamo testimonianze delle nostre dottoresse dell'ASDA di Biella e le parti di quelle che sono le legislazioni, che sarà il nostro ormai esperto e gradito ospite il dottor Mendolicchio con la dottoressa che collabora con lui a Piancavallo nella sezione proprio dedicata a questa patologia e l'intervento nuovamente del fondatore dell'associazione Minutro di Vita, Tavilla, che tra l'altro è stato insegnito proprio da Mattarella per quanto riguarda il lavoro sul territorio nazionale e quindi un lustro e un pregio al fondatore proprio perché sta trasmettendo informazioni e centri di ascolto per le famiglie per iniziare un percorso e quindi una guida. Il provveditorato, la dottoressa Motisi è felicissima di aver partecipato e a breve firmeremo poi questo protocollo, stiamo definendo alcuni passi importanti specialmente a riguardo dell'ASDA che è la parte fondamentale a questo progetto e divulgheremo quello che sono comunque le informazioni e il dialogare con i giovani e quindi poi ci saranno testimonianze, ci saranno delle associazioni e mi fa molto piacere ricevere nuovamente Francesca Lazzari che comunque ha fondato l'associazione proprio a distanza di un anno e più che è mancato il suo figliolo e collaboro anche lei con l'ASDA di Torino per quanto riguarda il pasto assistito che è un momento molto delicato per chi soffre di queste patologie. Abbiamo nuovamente il dottor Mendolicchio che dialogherà insieme alla nostra giornalista di Raiuno Francesca Fialdini, oltretutto abbiamo come ospite un'associazione di Roma quindi per me è un buon, è un successo avere così tanti personaggi che arrivano comunque da, non dico da tutto il territorio nazionale ma quasi perché abbiamo visto già dalle iscrizioni al convegno sono persone che arrivano dalla Liguria, dalla Toscana, dal Veneto e quindi vuol dire che c'è proprio una grande partecipazione. Allora senta Assessore, faticavo a fermarla perché evidentemente la passione e l'entusiasmo per questo importantissimo risultato è evidente allora tantissime persone e istituzioni che arrivano anche da tutta Italia e non solo, un grande lavoro di rete, scuole, azienda sanitaria, amministrazione tantissime e associazioni allora noi sicuramente la seguiremo perché di anoressia e bulimia non si parla mai abbastanza grazie davvero, a presto grazie a voi come sempre, grazie